buongiorno bentornati in un nuovo video prima di iniziare il video di oggi volevo salutare una ragazza che mi ha chiesto di essere salutata un grande saluto a the world of carmen jr grazie che mi segui e detto questo vi sto facendo vedere appunto la confezione questa è la 5.5 colore mogano e della garnier olia vi ho già fatto vedere in un altro video un'altra un'altra tinta sempre dell'olia di un altro colore ora non ricordo ma il video ve lo metto tra le schede e qui vi sto facendo leggere che cosa contiene qui invece si parla del risultato teorico quindi di quello che in teoria dovrebbe venire chiaro che dipende dal vostro colore di partenza naturale se avete fatto delle tinte in precedenza se avete fatto il decappaggio no io non lo faccio perché i capelli già abbastanza stressati né decolorazione né decappaggio se volete ottenere quel risultato lì dovete fare decolorazione decappaggio della tinta vecchia o comunque chiedete alla vostra parrucchiera di fiducia a me va bene il risultato che che viene quindi va benissimo così adesso passiamo lo spacchettamento questo il prodotto numero 3 che è una crema dopo colorazione che serve per rendere morbidi i capelli per mantenere il colore è buonissima l'avevo già provata quindi ve lo posso dire chiaramente non va utilizzata tutta subito questo qui invece è la crema rilevatrice sono 60 grammi ed è chiamata crema 1 eccola qui che è quella che fa attivare diciamo così la tinta eccola qui e poi passiamo al prodotto numero 2 che è la colorazione vera e propria quindi la tinta e sono sempre 60 grammi adesso veniamo ai guanti che sono molto molto comodi anche perché non si appiccicano quindi sono veramente buoni e questo è il contenitore che anche dosatore e applicatore poi le istruzioni adesso ve le farò vedere velocemente e stringendo vi dice che ci sono due tipi di possibilità o la tintura completa che è quella che farò io oppure ad esempio un ritocco del colore quindi se dovete fare rinfrescare diciamo il colore quindi fare solo le radici e qui appunto vi sto facendo vedere per la tinta totale 30 minuti per il rinfresco 20 minuti poi chiaramente bisogna sciacquare vabbè insomma le solite cose ma poi lo vediamo e una cosa molto importante specialmente se non avete mai fatto tinte è quella di fare il test della colorazione bisogna mettere un po di tinta sul dietro al collo e vedere se vi fa reazione se vi da fastidio che la pelle arrossata o tutto quanto assolutamente non bisogna fare la colorazione io so che non mi fa male perché l'ho già fatta e quindi vado tranquilla poi ci sono le precauzioni particolari tenere fuori dalla portata dei bambini non utilizzare in gravidanza non ingerire vabbè solite cose e niente quindi qui adesso vi faccio rivedere un po di foto e possiamo partire chiudiamo la nostra scatola e sul retro ci sarà un segno tratteggiato tondo non facciamo altro che appunto togliere strappare diciamo questo tratteggio eccolo qua perché sarà la nostra base di appoggio per il contenitore della tinta quindi lo andiamo a prendere togliamo il coperchio e poggiamo il contenitore sulla base e come potete intravedere sulla sinistra in alto stavo guardando chicago fire detto questo prendiamo la crema rilevatrice numero uno e la andiamo inserire tutta quanta nel nostro contenitore eccola qua e poi ovviamente bisognerà inserire il prodotto numero due che è la crema vera e propria come al solito si apre utilizzando la parte dietro del tappino specialmente se fa caldo tenderà a uscire subito quindi state molto vicino al contenitore e lo andiamo a mettere tutta quanta poi il prossimo passo è quello di shakerare shaket 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 quindi mettiamo il nostro tappo senza togliere questo tappino che vi sto facendo vedere e shakeriamo tantissimo perché ovviamente deve essere ben amalgamato l'unica cosa quando finite di shakerare poi bisogna subito aprire il tappino non bisogna lasciare la tinta lì perché tenderà a sprigionare dei gas che poi una volta tolto il tappino vi farà esplodere tutta la tinta addosso quindi esplodere per modo di dire ovviamente però uscirà tutta dal beccuccio quindi stappatela subito e poi utilizzatela anche subito perché se no tende a ossidare adesso vi faccio vedere i miei capelli prima come vedete le radici sono colore mio naturale mentre sotto è colorazione normale vecchia diciamo adesso utilizzate il beccuccio del dosatore per dividere le ciocche iniziate dal centro come vedete e la spalmate per bene poi prendete un'altra ciocchettina e andate a mettere un'altra striscietta di prodotto poi andiamo dall'altra parte e facciamo la stessa cosa poi chiaramente ognuno ha il suo metodo io con questo metodo mi trovo bene faccio così però nulla vi viete di usare il vostro metodo poi tirate indietro i capelli e create una striscia per fare appunto il contorno diciamo della testa non mi sono spiegata ma mi avete capito perché tanto state vedendo le immagini e la spalmate indietro poi piegate la testa e fate la stessa cosa con il contorno laterale da un lato e poi dall'altro ovviamente vi consiglio di mettere un asciugamano vecchio una maglia vecchia perché comunque il rischio di sgocciolamento potrebbe esserci a me non è mai successo però con queste tinte con altre sì disastro con questo non mi è mai successo quindi per sicurezza mettetevelo fate bene l'attaccatura dei capelli e il contorno delle orecchie anche dietro il collo perché vedere tutto tinto e poi il bordino non tinto sta veramente male quindi adesso qui mi sono accorta che non stavo riprendendo qui anche se non si vede mi sono messa testa in giù e sto facendo tutto il contorno della nuca e lo sto portando poi verso l'alto sempre schiacciando poi mettete un po' di crema colorante sulle mani e fate le lunghezze qui vedete che ho già fatto la cipollina però la cosa importante da fare quando avete applicato la tinta dappertutto io ovviamente non ho ripreso tutto tutto però è giusto per farvi vedere dovete strofinare i capelli in questa maniera qui e fare finta di farvi lo shampoo in questo modo il colore entrerà bene nelle squame dei capelli e anche nell'attaccatura dei capelli e il risultato sarà uniforme quando avete fatto tutto bene vi siete assicurati anche che avete fatto bene dietro i lati e tutto quanto create una cipollina o un muccetto come si dice dalle mie parti e poi semplicemente bisognerà lasciare in posa vedete che poi io sto arrotolando i capelli e li sto sistemando non ho neanche avuto bisogno di mettere il mollettone è stato costruito da solo quindi fate bene dietro eccolo qua adesso non vi resta che aspettare guardatelo ora 30 minuti e siete pronti se non sbaglio vi faccio vedere dopo 30 minuti come viene ecco qua sono passati 30 minuti e come vedete il colore ha preso perché ha cambiato colore la tinta quindi vuol dire che ha preso se vedete che il colore non è cambiato tanto magari aspettate ancora 5 minuti vabbè qui poi ho fatto shampoo la crema quella lì dopo ho passato la piastra poi ho asciugato ho passato la piastra e questo è il risultato e qui adesso partono altre foto intanto veniamo ai consigli vabbè il prima e il dopo ovviamente per fare la tinta i capelli devono essere sporchi perché se fate la tinta sui capelli puliti non vi prende una cippa quindi mi raccomando capelli sporchi preferibilmente senza aver messo prima lacche, spray, shampoo secco robe varie poi quella crema utilizzatela perché quella dopo il colore intendo la crema numero 3 perché è veramente veramente buona ve la consiglio questa tinta perché non fa nessun tipo di odore non vi fa bruciare gli occhi i capelli li lascia morbidissimi ed è veramente fantastica quindi assolutamente ve la consiglio e ci tengo a ribadire la questione del decappaggio e cose varie perché in un commento mi era stato scritto ma quello non è assolutamente biondo adesso non mi ricordo che numero era la tinta ma io ho risposto certamente che non è perché io volevo ottenere questo risultato che poi avevo ottenuto che era d'estate quindi era un colore abbastanza chiaro ma non era biondo perché io bionda non la voglio diventare era semplicemente per schiarire un po' il colore dei capelli se avessi voluto un biondo avrei dovuto fare decappaggio decolorazione e poi fare la tinta allora sarebbe venuto però appunto io non volevo quello e non l'ho fatto se volete ottenere ad esempio nel caso del biondo un biondo biondo dovete fare vari decappaggi e varie decolorazioni ripeto chiedete sempre consiglio alla vostra parrucchiera specialmente se dovete fare dei cambi drastici di colore e soprattutto non fate tante tinte una vicino all'altra perché vi rovinate i capelli io ne faccio una massimo due l'anno non di più quindi niente per questo è tutto fatemi sapere se anche voi avete provato questa tinta qual è il colore che vi fate di solito oppure se ultimamente avete cambiato idea e avete fatto un colore nuovo oppure se avete anche un'altra marca di tinta da propormi che secondo voi è molto valida e niente ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao